Ormai incontri a seguire senza soluzioni di continuità per raggiungere l'obiettivo che è quello di dare un nome al candidato sindaco del centro-destra. Di certo c'è solo la data per il prossimo incontro, che sarà il 5 aprile, dopo che l'incontro di ieri sera non è stato risolutivo. Quindi Pasqua porterà consiglio e diventerà palcoscenico di un intreccio di posizioni fra i partiti, che porterà con molta probabilità il 5 aprile a definire il candidato sindaco condiviso. Al tavolo ieri nessuno ha fatto i nomi per non bruciarli sul nascere e si sono evitate interferenze piovute dall'alto. Intorno al tavolo il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Di Sandro, Forza Italia con il senatore Claudio Lotito, la Lega con Marone, l'Udc con Teresio Di Pietro, noi moderati con Zappone e di Popolari per l'Italia con Vincenzo Niro e Pasquale Terzano. Dunque la casella resta ancora ufficialmente da assegnare, ma è certo che i giochi di posizione proseguiranno ancora per un po' con ogni partito che rivendica, sia pure sotto traccia, qualcosa o qualcuno per Campobasso e Termoli. Si delinea comunque un arretramento sul fronte delle posizioni delle richieste di Fratelli d'Italia, che avendo ormai visto la rinuncia del forte candidato Quintino Pallante, è considerato che a livello nazionale ci sono ben 29 capologhi di provincia, chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno, dove Fratelli d'Italia può rivendicare il candidato, si desume che la scelta ricadrà su un candidato di un altro dei partiti della coalizione di centrodestra.